Caro amico e cara amica, anche se ormai è rimasta poca, pochissima luce di questa giornata, voglio fare una camminata insieme a te e parlare del solstizio d'estate. Parlare però del solstizio a livello simbolico, quindi andando a vedere quali sono i suoi significati. Forse il modo migliore per farlo è proprio ragionare per simboli a partire da questo luogo in cui mi trovo, che è una colata lavica. Tutta quella che vedi nera è lava, lava quindi elemento fuoco. Fuoco significa azione, ma significa anche trasformazione, trasformazione, cambiare, ha a che fare con la con la possibilità che tutti noi abbiamo di cambiare, cambiare lavoro, cambiare vita, cambiare nelle relazioni, cambiare partner oppure cambiare modo di essere mentre ci relazioniamo con il partner, mentre ci relazioniamo con gli amici, con la famiglia, con noi stessi, con le nostre passioni, con la nostra interiorità. Fuoco è trasformazione, trasformazione di quello che c'è, oppure anche intraprendere nuove strade, nuovi cammini, proprio come sto facendo adesso in questo momento, in questo luogo così forte, così magico, così bello, dove si sente proprio questa potenza, questo radicamento così forte della natura. E mentre risalgo appunto questa colata lavica, dove la lava sbriciolandosi piano piano dalle radici, la possibilità di insinuarsi, quindi agli alberi di spiccare il volo verso l'alto, verso il cielo, verso la luce, verso il sole. Ecco che è quasi impossibile non pensare al solstizio d'estate. Solstizio d'estate è il momento in cui la luce prevale sulle tenebre, è il momento del giorno più lungo dell'anno, ma non è semplicemente un fatto di intensità della luce esteriore, quindi di inclinazione dell'asse terrestre a livello astronomico, non è solo questo. C'è qualcosa di più, c'è qualcosa che, secondo la legge di analogia, noi scopriamo che c'è una corrispondenza tra la luce esteriore, che fa sì che a quest'ora del giorno, alle nove circa, sia ancora fondamentalmente giorno, e la luce interiore che ognuno di noi ha e che alberga nel nostro cuore. Noi possiamo risvegliare e fare splendere questa luce al solstizio d'estate. È un momento molto importante per fare chiarezza. È anche possibile che tutte le cose che forse non volevamo vedere fino in fondo, che ci stancava a vedere, che ci faceva fatica a vedere, può darsi che queste cose emergano, emergano proprio in questo periodo, e che quindi proprio il momento dell'anno più appropriato per vederle, osservarle, lavorarci, trasformarle. Noi lo faremo insieme in un bellissimo seminario online che si terrà domenica 21 giugno. Un seminario in cui ci saranno momenti di musica, ci saranno momenti di meditazione, ma soprattutto ci sarà un bel rituale di scrittura. Siamo connessi online, quindi ognuno lo farà nelle sue case, ci saranno delle istruzioni, quindi servirà una penna, probabilmente anche dei colori. Tutte le istruzioni vi arriveranno via email. Se ti senti di partecipare a questa esperienza, iscriviti, perché sarà molto bello. Se invece vuoi sapere qualcosa di più, puoi tranquillamente inviarci un messaggio, anche magari raccontando qualche situazione che vorresti trasformare, su cui vorresti lavorare, anche perché già solo il fatto di iniziare a chiarirlo interiormente potrebbe significare far partire questa trasformazione. Volevo parlare per non più di cinque minuti, cinque minuti sono arrivati proprio in questo momento, anche la notte sta scendendo e quindi, caro amico e cara amica, io ti mando un grande abbraccio pieno di spiragli di luce.